Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis, un abbraccio pericoloso, guardate, tra area più fresca da ovest e area più mite da sud. E quindi il risultato qual è? Mal tempo, mal tempo anche nella giornata di lunedì, quindi un avvio di settimana, ultimi giorni di ottobre, l'insegna del mal tempo, con piogge rovesce, anche qualche fenomeno temporalesco, in particolar modo sulla costa, sul mare, sulla Liguria, però comunque qualche fenomeno temporalesco potrà sconfinare anche in alcune aree più interne. E attenzione anche alle abbondanti nevicate, ma a quote inizialmente piuttosto elevate, oltre i 2000 metri. Calo repentino invece della quota neve nella seconda parte della giornata, in serata, quando la quota neve addirittura tenderà ad attestarsi anche attorno ai 1500 metri. E continueranno le piogge più a sud, più in basso, per meglio dire, più a sud. Vediamo le temperature, temperature che caleranno nei valori massimi, rimarranno invece stazionarie, nei valori minimi. Prepariamoci quindi ad un'altra giornata piuttosto bruttina. Arrivederci.